La videocamera del Mini 4 Pro ha la stessa ampia apertura di f1.7 del Mini 3 Pro, capace di raccogliere molta luce. In questo video mostrerò come ottenere i migliori risultati in diverse situazioni di scarsa illuminazione. Confronterò il Night Mode contro i profili colore Normal e D-Log. Prima di iniziare un paio di importanti consigli sulla sicurezza per riprese video notturne. Innanzitutto in condizioni di scarsa illuminazione il sistema di evitamento ostacoli del Mini 4 Pro non sarà attivo, quindi molta attenzione è necessaria. Suggerisco di ispezionare attentamente la scena e di volare molto più in alto rispetto ad ostacoli circostanti. Il Mini 4 Pro ha due luci LED nella parte inferiore delle due ali posteriori, per visualizzare il velivolo quando lo si riporta a casa. Durante la registrazione di video vengono disattivati, quindi assicurarsi di interrompere la registrazione per meglio individuare il drone. Questo modello ha una nuova funzione per rendere molto più semplice la visualizzazione. Nella scheda Safety dei Settings è possibile accendere un LED ausiliare molto potente nella parte inferiore. È molto più efficace per mantenere il drone a vista in luce bassa. Per testare la capacità di una videocamera in scarsa illuminazione è importante scegliere le condizioni corrette. Vedo spesso test effettuati in una grande città con luci artificiali molto potenti come unica fonte. Alcune di queste scene possono essere abbastanza spettacolari, ma non dicono molto sulla capacità della telecamera. Si tratta di situazioni di gamma dinamica estrema, con luci molto intense e ombre estremamente scuro. L'obiettivo è di evitare di sovraesporre le luci, mentre le ombre saranno comunque nere, come una silhouette, dipendentemente dalla capacità della videocamera. Risultati nettamente migliori si ottengono filmando dopo il tramonto o prima dell'alba, con ancora un po' di crepuscolo che agisce come luce di dissolvenza e alcune luci artificiali. È importante che ci siano zone naturali con vegetazione, mare o cielo per verificare la capacità della videocamera di mantenere le informazioni nelle ombre. Vediamo come si comporta il Mini 4 Pro in queste condizioni. Confronterò i due profili colore Normal e D-Log M con la nuova modalità Night Video. C'è anche un altro profilo colore, HLG, ma non lo analizzerò qui. Può dare ottimi risultati, ma è più complesso da utilizzare, poiché si basa su uno spazio colore diverso. Sarebbe troppo lungo spiegare come utilizzare al meglio HLG qui, ma potete guardare il mio video sui profili colore del Mini 4 Pro. Pubblicherò un collegamento alla fine di questo. Iniziamo con la modalità Normal, la più utilizzata, in quanto non richiede un editing impegnativo. Per l'esposizione ho impostato la velocità del rotturatore a un cinquantesimo di secondo, quella corretta per la frequenza che sto utilizzando, 24 fotogrammi al secondo. Scelgo un valore ISO basso, 200, per evitare perdite di qualità. Controllando l'istogramma posso vedere che l'eclip sarà sottoesposta di almeno uno stop, quindi aumento l'esposizione e alzo leggermente le ombre durante il color grading. Il risultato è eccellente. I colori sono ricchi e molto piacevoli, c'è dettaglio nelle ombre e la scena appare molto organica. Si dovrebbe pensare che queste non siano condizioni di scarsa illuminazione, ma credetemi, era veramente molto buio. L'obiettivo F1.7 del Mini 4 Pro è capace di raccogliere moltissima luce. D-Log è un profilo piatto, richiede una buona dose di editing e l'uso di un lot. Io ho utilizzato quello realizzato da DJI per il Mini 4 Pro. Potete scaricarlo dal mio sito, cercando su Google Vic Video Peek Night Video Mode. Per l'esposizione utilizzo lo stesso approccio di prima. I risultati in queste condizioni di luce sono addirittura migliori di quelli ottenuti in modalità normal. Ma, cosa è più importante, i file rispondono benissimo alla gradazione del colore. Quindi è facile recuperare le ombre, modificare il bilanciamento del bianco o utilizzare un lot diverso per adattare il filmato a qualsiasi combinazione di colori. Il rumore è quasi assente, ma questo non mi preoccupa particolarmente, poiché utilizzo l'eccellente Denoiser Knit Video per ridurre delicatamente il rumore cromatico o quello di luminanza o il flicker senza introdurre artefatti. Nella descrizione troverete un collocamento a Knit Video. Potete guardare il mio video a riguardo cliccando sul link allo schermo. Nel menu Video Foto è presente Night Mode, che automaticamente riduce il rumore e aggiunge nitidezza o sharpening. L'ISO può raggiungere un valore massimo di 12800 contro 6004 per la modalità video normale. La frequenza massima è 30 fotogrammi al secondo, invece di 60, quindi non è possibile applicare rallentato. Night Mode funziona soltanto con la modalità Normal a 8 bit. Quelle a 10 bit D-Log e HLG non sono supportate. È possibile esporre in modalità automatica o manuale. Night Mode è stato introdotto con il Mavic 3 e in quel modello l'ho trovato deludente. Il denoising e lo sharpening sono troppo aggressivi e provocano un aspetto poco reale. Gli elementi al suolo sembrano di plastica. Come spesso accade, i DJI sembra aver migliorato questa funzionalità e l'effetto Gotham City nel Mini 4 Pro è meno pronunciato. In queste condizioni di crepuscolo, Night Mode non può competere con D-Log o con la modalità Normal. I colori non sono così ricchi e c'è poco dettaglio nelle ombre e negli edifici, probabilmente a causa dell'effetto del denoising e sharpening. Passiamo all'altro scenario che descrivevo prima, una scena urbana dove l'unica fonte è la luce artificiale. Anche in questo caso Night Mode non è entusiasma. Il valore ISO è stato aumentato e la dose di denoising e sharpening è troppo aggressiva. Le ombre sono schiacciate e gli edifici non sembrano organici. Questa modalità è ancora in fase di elaborazione. In queste condizioni si ottengono risultati decisamente migliori utilizzando Normal con esposizione manuale. I colori sono molto più ricchi, c'è un buon contrasto e dettaglio nelle ombre. Gli edifici del villaggio sembrano veri e propri edifici. Per utenti esperti in post elaborazione sul computer, D-Log è di gran lunga la scelta migliore in condizioni di scarsa illuminazione. Normal è una buona alternativa quando la editing non è possibile. Night Video è la prima iterazione di una nuova modalità e sono sicuro che verrà costantemente migliorata. Per il momento non vedo motivi per utilizzarla. Cliccate su questo link per guardare il mio video sui diversi profili colore per video del Mini 4 Pro e non dimenticate di premere il pulsante mi piace se avete trovato questo video interessante. Grazie!